Eccolo, eccolo Ragazzi era da una vita che non faccio un video insieme alla mia sorellina Martina Visto che vi piacciono un botto i video con lei dove reagiamo ai tiktok Facciamo tiktok compilation, prova a non guardare tiktok delle ragazze Oggi faremo una prova a non guardare challenge con i tiktok Best tiktok dance compilation of June 2020 part 4 Ci siamo Addirittura parte 4 Minchiamo parte 4 Era messa ieri Cazzi ha messa ieri ora che mi sono aggiornato Barbuto è sempre piaciuto Allora partiamo Ci vedrete un po' strabici perché ce l'abbiamo Qua dietro la telecamera c'è un televisore Ci siamo, siamo punti Lei mi usciva sempre quando ero incinta Perché lei è incinta? Cioè era incinta? Era incinta sembrava fosse passato un anno Una mamita? Una mif E questo? Questo è un ragazzo Che ballerista ragazzi Che ballerista Bravo eh Bravo Bravo questo ragazzo Che bravo Bravo Ho detto sono barbuto ma non ho la barba No Sono barbuto ma non ho la barba Anche lei non l'ho mai visto Lei sì Lei è la sorella di Brent Rivera Diretta canzone da quando non la sentivo Smettila Oh Come c'è Ma ha già cominciato E questa? Abbiamo fatto cambio posto eh ragazzi Cos'è fa? Fa stretching Che bello il borsello Io guardo come sono vestite Beh lei non c'è niente da vedere Non è questa compilation incredibile come siamo abituati a vedere eh Di solito c'è un ragazzo un po' più Mi spiace caro Cosa ha fatto questa? Cos'è ha fatto? Non sentivo la canzone Che bravi Limpiessa Nooo Adesso Don't get on Questo l'ha messo il telefono nel bagagliaio Nel bagagliaio Eccolo Oh questo è sempre senza maglietta sta eh Mi sono messo in azienda Finalmente Dico io Ah oh cioè Guarda che c'ho C'ho una sensibilità pure io eh Oddio mi dice la testa Ancora E basta Basta Sapete fare solo questo ragazzi Hai rotto la sedia? No Io adoro i video della shuffle Ah C'ho l'ho Anni Gio Lo Oh basta però Sta andando un po' male Sta andando male sì In copertina mettono tutte queste ragazze Poi Non ce n'è Non ho capito Questo ticc C'ho la sindrome di Turetz Ma questa esattamente Il pezzo di sotto è il costume Il pezzo di sopra è la maglietta E cosa fai? Non si guarda Aspetta aspetta riparlo Che male Sono fatto malissimo Ok Buona forchetta Buona secondo te Non ho mai provato a mangiare una forchetta Adesso ho capito chi è Stavo capendo Lui è bravo a ballare Questa è sempre la Milf Basta Ma scusa Ma una che c'ha una bambina Eh E fa cosa? E mamma Quindi Milf Milf vuol dire mamma Ho capito Ma basta basta Ragazzi basta Hola Hola Che bravi Siamo tornati a musical Hola E' bravissimi Oh ma che è Ragazzi Non è manco messo in Ragazzi Ti hai messo in normale uno Hola madonna Papà E là Proprio brava Charlie Brava brava Charlie Bella tua canzone Vabbè è bella Perché mi guardi così Davvero è bella la canzone La canzone E' bella la canzone Ti mette allegria Dream No vabbè sto volando Dream 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 Vabbè è bella Guarda ti tiro un cibo Quando è entrato Non si vedeva la testa Sì E' tutto niente No Dai Scemo Tutti tiktok i bicelli sono così Cosa c'entra questo con tutte Oh la madonna Minchia bravissima Vorrei imparare a fare E quello dietro cosa sta facendo esattamente Deve far vedere che c'hai muscoli Eh a quanto pare si Vabbè se uno ce li hai deve far vedere Ma quello sono io Un attimo ho flashato eh Ho detto che ci faccio qua con Jason Derulo Il mio best friend Jason Derulo Ma sono pedini Ma che pedini hai Eh c'ho i pedini Sono strani Minchia questa qua è un pomodoro Un pomodoro Flo Flo Grande Edison Che sembra la marca quella che ti dà internet No l'elettricità Edison Bel nome però Edison Mi piace Edison eh Edison Brava ballerina Quanto dura solito Io ci provo Io ci provo Ma chi sono io non li prendo se vuoi Go 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 Who's next Eh eh Who's next con loro a casa Ah Lei è brava Cioè Brava lei Non si vede neanche gli occhi Va bene Ma come te lo metti il cappello signorina Questo è un tiktok pericoloso Non voglio far quello che rompe le scatole Ma se passa un treno li prende a me non dispiace Ma che Scherzo Eh non c'è manche Ma si ma si scherzo Chi è questa Si fa un po' di battuta Ma chi è Questa qua è Buon se O no Sì sì No forse no No io non voglio dire Che è buon se Eccola di nuovo E la Ma quella è la madre Sembrava la sorella O un'amica Ragazzi complimenti Complimenti alla mamma Oh è brava Bravissima ragazzi Questa qua minimo è un insegnante di ballerismo Ballerismo Hashtag ballerismo Mi raccomando ragazzi Se siete nuovi qua In questo continua così Se siete nuovi qua Commentate con un hashtag Nuovi iscritti Iscrivetevi Che gli do il bimbi Ma questo fa tutto il meglio così Questo fa tutto Ma era che tecnica Ma era che tecnica Ma che Eccola Tuturu tuturu Eh ma è mix Mix di ballico E il padre non balla? Credo che è sbagliato A ordinare la felpa su internet Perché mi sa che bella grande Ahia Oh no Era bella grande Quello e mezzo sembra quell'attore di Stranger Things Com'è che si chiama? Amico di Dustin Ricordatevi nei commenti come si chiama Bella questa canzone Bella si No È la canzone Non sono il mio tipo di ragazzo Questa qua diciamo Lei si però Lei si Lei potrebbe Se mi chiami Chiamami Ehi Barbuto sempre piaciuto Anzi Ehi Barbuto si Quello sempre piaciuto Io mi sono sempre chiesta Come fa Mi senti così bianchi Sono bianchissime Prendi La vernice E ci dai su O no Ecco Sono Chi sono? No non lo so Guardate le scherpe di questa qui Con la conna Grazie per il pezzo finale Dai scherzo Questo non è il tuo prototipo Sai chi è che non vedo da un po' Nel tiktok Noin Noin Il tuo amore Non lo vedo da un po' Come mai? Non fa più tiktok? Io non so come fate ragazzi Si sa imparare tutte queste mosse Qua Sembrava noi Quello Madonna Pure quello uguale Chi? A barbuto Quello destro Sembrava No smettila dai Sarceva un po' il fisico Un po' più carino del mio Però I capelli sono come ce li avevo Cosa fa? Cosa fa? Questa è quella di prima Con il cappello Che non si vede negli occhi Bravina dai Bravina Ma adesso Non eseggia prima Solo perché non ti mostro le tette Bravina Adesso Guarda che io non sono Uno di quelle Di quei ragazzi Che Guarda solo quello Che è questo? Un po' più Movimentato Così fa Oddio Oddio Mi sarei spaccata le punte di piedi Questi invece non si muovono per niente Lei ha un bel vestito Un bel vestito L'ha fatto lei secondo me Perché secondo me non lo vengono Secondo me invece si No secondo me l'ha fatto lei L'ha ritagliato con le forbici Questo qua è magrissimo ragazzi Chase Chase si chiama Questo qua è magrissimo Non è lì l'Adi Pensavo si chiamasse L'Adi di nome E' Addi di cugnone Sto scherzando Perfetto ragazzi Questo era il tiktok Super prova Non guardare Reaction La reazione Guardo il tiktok Ultime tiktok dance Completion of june 2020 Insieme alla mia sister Martina Benvenuta Super marti Bentornata 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 sul canale di Giuseppe Barbuto Sempre piaciuto Spero vi sia piaciuto come Barbuto E state divertiti Noi ci salutiamo E ci vediamo Che giorno è domani Domani è venerdì Quindi ci vediamo domenica Con un nuovo video Perché ogni mercoledì Ogni venerdì E ogni Basta Domenica Domenica Alle ore 18 Esce un video sul canale di Barbuto Ciao Link in descrizione Per far per mascherina Tutto il merce Petacolo Ho saputo un pezzo di Barbuto Clicca in descrizione Nel primo commento Ciao belli